musica musica ragazzi voi non ci crederete ma qua dentro ci sono due droni che pesano circa 50 grammi l'uno ma infatti non ho capito ma che cavolo di pacchi sono questi bene ragazzi forse lo avete già capito dalla foto in copertina si tratta di due droni della serie star wars che sono due droni un po' anche da collezione la marca è la propel che sarebbe un'azienda americana però guardate un po' che c'è scritto made in cina io ragazzi ve l'ho sempre detto non c'è più nulla che non sia made in cina comunque sono veramente molto curioso di aprire questi pacchi perché vi ripeto sono veramente giganteschi e soprattutto pesantissimi cosa hanno messo qua dentro per far sì che pesino così tanto saranno almeno 3 kg forse anche 4 e il drone all'interno appunto pesa giù sono 50 grammi quindi adesso vediamo cosa troviamo allora forse è meglio fare così me ne hanno mandati due io devo essere sincero non sono mai stato un grande fan di star wars quando vedo queste cose così ben fatte comunque viene un po' l'acquolina è veramente veramente bello è un drone adatto dai 14 anni in su perché in realtà non è proprio un dronino stupidino diciamo così perché pensate che raggiunge la velocità di 50 km all'ora aprendo la confezione troveremo già high performance battling drones è un drone per fare anche delle battaglie infatti con più di uno potrete fare delle battaglie dove il drone avversario avrà colpito con dei raggi laser e potrete quindi abbattere il vostro avversario il drone calerà e andrà ad atterrare tiriamo fuori anche questo confezione della madonna ragazzi veramente confezione alla madonna e guardate che sembra una stupidaggine ma guardate la cura nei dettagli c'è il polistirolo e ogni pezzo è marchiato della propel e anche all'interno non solo la protezione polistirolo stesso ma hanno aggiunto anche questi pezzi in cartone per aumentarne la protezione sono delle piccole accortezze che fanno la differenza e fanno capire che un drone è stato costruito con cura nel packaging vediamo poi che c'è abbiamo buste su buste anche qui guardate ragazzi veramente vi dicevo addirittura anche l'adesivo che tiene non so se si vede l'adesivo che tiene incollata la busta c'è la marca il marchio proprio al sopra no ragazzi le istruzioni per aprire la confezione dove dice che questa sorta di marchio che sembra quasi un marchio di quelli una volta stampati in cera ma chiaramente non lo non lo è o si sembra veramente è una gomma molto morbida che gli somiglia va tagliato dice di fare attenzione e con la supervisione di un adulto e quindi passo ad un taglierino piuttosto che alle forbici e con un po' di attenzione cerchiamo di aprire in posto pacco e se è una gomma ecco qua tagliamo quest'altro eccolo qua star wars apriamo cioè no ah 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 madonna ragazzi che cura ma guarda adesso capisco ma come si fa a farlo stare in zitto basta suona sempre di più oh ha finito però si sono riaccese le luci ma guardate ragazzi veramente allora cerchiamo di capire questo è un drone e anche l'altro che poi apriremo a breve da collezione questi sono pezzi da collezione infatti vedete che sono delle serie numerate e quindi sono proprio oggetti da collezione che fra l'altro adesso sono scesi di prezzo davvero tantissimo vi lascio i link in descrizione li trovate su amazon perché il prezzo di lancio di queste piccole opere ed art se vogliamo erano attorno ai 200 euro al pezzo addirittura alcuni modelli arrivavano a 250 euro al pezzo quindi quel che si paga in questi oggetti non è solamente il dronino ma è soprattutto perché sono dei pezzi da collezione alcuni di loro sono addirittura a tiratura limitata e quello che vi sto facendo vedere adesso il T65 X-Wing sono dei pezzi che sono fatti in collaborazione proprio con la Disney e vi dicevo appunto essere in in tiratura limitata quindi magari un giorno è possibile paradossalmente che magari valgano anche di più vedete ragazzi questo è il drone pensate che sono verniciati a mano cioè qui non è un prodotto di bassa fattezza sono fatti veramente bene e non è solo il packaging a lasciare di stucco che onestamente in effetti lascia veramente un po' senza parole ragazzi veramente guardate che che sorba di confezione molto elaborata per questo prodotto comunque continuiamo con l'apertura nel pacco mettiamo il drone poi da una parte un attimino che continuerà ad essere illuminato fra l'altro tiriamo fuori l'ennesima scatola e qui dentro invece avremo sicuramente il controller ci sono un botto di scatole ragazzi ma cos'è cos'è tutta sta roba qui ci sono altre istruzioni lo mettiamo momentaneamente da parte e poi abbiamo extra accessori abbiamo alcuni accessori del drone queste sono le lance di ricambio abbiamo veramente tantissime eliche di ricambio e anche un bel po' di vitarelle di ricambio la fusoliera con una batteria e guardate qui ancora eliche di ricambio poi abbiamo questa che sembra essere una chiavina questa è in metallo è in metallo vero anche piuttosto pesante non so cosa serve adesso lo vedremo e questi sono gli accessori e le eliche in una scatola nell'altra scatola abbiamo guardate ragazzi no ancora fusoliere ancora fusoliere abbiamo il caricabatterie proprietario della propel tutto tutto è fatto davvero molto molto bene molto dettagliato e quelle che pensavo essere le fusole di ricambio in realtà sono le batterie e quindi se i miei calcoli sono esatti abbiamo addirittura ben tre batterie abbiamo poi qui l'alimentatore per caricare le batterie con tanto di accessori per la presa americana ma comunque c'è anche la presa nostra europea stiamo un attimo da parte sto riempendo il tavolino tante sono le cose e poi qua dentro invece abbiamo il radiocomando che solo il radiocomando pesa tipo una mezza chilata sapete qual è la difficoltà in questo video è la difficoltà nel trasmettervi la qualità costruttiva di ogni singola parte di questo prodotto veramente è la prima volta che acquisto un drone che poi appunto vi ripeto con gli sconti che ci sono adesso su Amazon a così basso costo ma capisco che il prezzo di lancio raggiungeva i 200 euro addirittura lo superava perché la qualità di tutti i materiali ragazzi è una qualità che si avvicina a droni professionali veramente al tatto la qualità la robustezza addirittura i joystick sono al pari non sto esagerando voi potrete farvi anche una risata ma sono al pari di droni come come il parro Tanafi la qualità delle molle o addirittura di alcuni DJI ragazzi non sto scherzando vedete anche qui il marchio Disney potremo mettere qui il nostro smartphone e scaricare anche un'applicazione dedicata per raggiungere il vano batterie del radiocomando dovremmo utilizzare un giravite e visto tutta sta qualità e tutte queste cose pratiche magari qui potevano fare un'apertura tradizionale invece di farci usare questa questa palla del giravite qui dovremmo inserire eccole qua tutto è particolare su questo drone vedete anche l'inserimento sono quattro batterie non incluse nella confezione tipo AA quindi le più tradizionali cioè veramente ragazzi non ho parole è quasi troppo è quasi troppo cerchiamo invece di tirare fuori sto drone che va semplicemente tirato verso l'esterno spero di non rompere nulla eccolo qua infatti il drone stesso pesa davvero poco saranno giusto una cinquantina di grandi allora nel frattempo ho capito a cosa serve questa chiavettina in metallo serve praticamente per aiutarci poi a sfilare le eliche perché le eliche che chiaramente sono A e B hanno il loro senso di rotazione e sono messi solamente a pressione quindi semplicemente inserendole nell'asse del motore motori che ricordo essere dei motori brushed quindi sono dei motori spazzolati quindi mettiamo le altre due eliche le eliche numerate con la lettera A vanno messe qui vedete le corna mentre le eliche con lettera B vanno messe a croce su quest'altro asse ed ecco pronto il nostro X-Wing per tirare fuori la batteria basterà tirarla fuori in questo modo per inserirla inseriamo la linguettina qui e pigiamo in giù vedete si accendono i led e tiriamo l'incastro in avanti a questo punto siamo quasi pronti per partire però volevo farvi vedere il radiocomando che è qualcosa di straordinario ragazzi sentite qui vibra anche anche la vibrazione è decisamente il quadricottero giocattolo che non è poi un giocattolo migliore che io abbia mai visto è veramente straordinario devo ammettere che è veramente fatto bene una confezione di un modello così curato non l'ho mai vista con le musiche originali di star wars altra cosa che ho scoperto invece della base mentre che leggevo le istruzioni è che qua dietro non so se si vede c'è un attacco che è lo stesso attacco poi del caricabatterie che ci consente di caricare la batteria interna di questo aggeggio perché è ricaricabile e quindi avremo sempre in continuazione se vogliamo l'illuminazione a led interna e le musiche originali di star wars comunque accensione continuata e autodecollo o auto atterraggio tenendo una volta pigiando una volta velocemente questo pulsante tenendolo premuto per due secondi e comunque il radiocomando fa tutta una serie di suoni e continuerà anche durante il volo niente direi di mettere sottocarica scusate lo spengo perché fa un casino vibrazione vibra anche quando si spenge direi di mettere sottocarica le batterie e di fare un volettino rapido per attivarlo bisogna fare un movimento del genere a questo punto siamo pronti ha integrato un barometro quindi mantiene l'altitudine da solo molto stabile nonostante ci sia anche un po' di vento con i suoi led però si comporta abbastanza bene vieni qui e anche un 6x integrato per mantenere un po' il controllo proviamo i flip non male flip da quell'altro lato vedete non male neanche i flip velocità a 3 velocità siamo in velocità 2 mettiamo in velocità 3 molto più veloce molto più reattivo anche con il vento molto molto reattivo molto molto veloce finite le batterie in poche parole se volete fare un regalo a voi stessi perché siete degli estimatori di star wars o volete fare un regalo a vostro figlio senza fare brutta figura perché qualità e packaging della madonna questo è il drone che fa per voi adesso apro giusto per correttezza proprio perché questi droni appunto me li hanno inviati questo pacco molto brevemente per farvi vedere il pacco da fuori ma si tratta comunque della stessa tipologia di drone e quindi magari non vi faccio vedere proprio in volo e tutto quanto però vi faccio vedere un attimino il modello come si chiama questo qua modello tie advance x1 forse forse questa è la navicella quella più famosa di star wars non lo so come dicevo non sono un grandissimo fan ma devo dire che un pochettino ci sto quasi diventando io vi ringrazio di aver visto questo video mi raccomando non fate gli jedi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao